Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto in vigore dal 10 gennaio che introdurrà nuove restrizioni ed estenderà l'obbligo del Super Green Pass in Abruzzo. E intanto, in Abruzzo, a seguito della crescente domanda di test, non sarà più possibile confermare il necessario confermare la positività al Covid tramite tampone molecolare. Il servizio. Nuove restrizioni, l'assedio ai non vaccinati è sempre più stringente. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un ultimo decreto che estende l'obbligo di Super Green Pass, quello cioè che non può essere ottenuto tramite test. Alla lista dei luoghi e delle attività già contemplati nel decreto natale, dove si può accedere solo con la certificazione rafforzata, si aggiungono ora alberghi, cerimonie civili e religiose, sagre e fiere, bar e ristoranti anche all'aperto, impianti di risalita turistici commerciali, piscine, centri benessere anche all'aperto, cinema, teatri e musei. Anche per usufruire dei mezzi di trasporto pubblico sarà necessario il Super Green Pass. La certificazione di un test negativo entro le ultime 48 ore sarà valido solo per accedere al luogo di lavoro. Il decreto sarà in vigore dal 10 gennaio. Novità anche riguardo le quarantene, chi ha un contatto con un positivo accertato ma non ha sintomi non dovrà isolarsi precauzionalmente se non sono trascorsi più di quattro mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione dal Covid. Sussisterà però l'obbligo di indossare mascherine FFP2 per 10 giorni dal contatto a rischio, mentre la quarantena termina nel momento in cui si è all'esito negativo di un test, seppure antigenico ed effettuato privatamente. La FFP2 comunque sarà obbligatoria in molti luoghi al chiuso e sui mezzi pubblici. Si ragiona sul prezzo calmierato di un euro a mascherina. Abbiamo incaricato il commissario Filuolo di avviare un percorso con le farmacie, ha dichiarato il sottosegretario alla salute Andrea Costa. Per quanto riguarda la capienza invece questa è ridotta al 50% per gli impianti all'aperto e al 35% per quelli al chiuso. Ad inizio gennaio si riunirà il Consiglio dei Ministri e non è escluso che vengano introdotte ulteriori restrizioni. Negli ultimi giorni, visto il dilagare della variante Omicron, sono tantissime le persone che stanno tentando di sottoporsi al test anche per trascorrere il capodanno con maggiore serenità. In Abruzzo da ieri, semmai un test antigenico dovesse dare l'esito insperato, non è più necessario dover confermare la positività tramite tampone molecolare. Si raccomanda ai dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti, si legge nel documento inviato alle ASL dall'assessorato regionale alla salute, di riservare il test di conferma alle sole condizioni ritenute indispensabili. Il servizio era di Giuseppe Dintino. Continuiamo a Pescara, ASL e amministrazione comunale sono al lavoro per trovare un'area dove aprire in città un nuovo hub vaccinale. Intanto cresce il numero delle persone che si recano nei centri per vaccinarsi. Ieri sono stati 3.996 i vaccini effettuati. Paolo Renzetti. Aumentano anche nelle pescarese le persone che decidono di vaccinarsi. Gli hub della provincia hanno visto infatti negli ultimi giorni crescere sensibilmente il numero di pazienti. Ieri sono state somministrate nelle pescarese 3.996 dosi di vaccino. No, ritorniamo ai periodi di giugno-luglio quando facevamo veramente tantissimi vaccini. Ieri ne abbiamo fatti 4.000 in tutta la provincia, 3.996 per essere precisi. Oggi arriveremo quasi alla soglia delle 100.000 terze dosi nella provincia di Pescara. Questo è un buon segnale. Molti stanno capendo, anche se forse un po' in ritardo, che insomma vaccinarsi è importantissimo. Vaccinare è importantissimo perché laddove ci si infetta da questo virus la sintomatologia rimane lieve e questo è il maggior successo di questo vaccino. Non ho la sfera di cristallo. Purtroppo questa variante Omicron è più infettiva e quindi i numeri stanno aumentando. Però ecco, la risposta che abbiamo è che tantissime persone rimangono infettate ma non hanno una sintomatologia lievissima e questo è importante perché i nostri ospedali possono continuare a svolgere la loro attività senza chiudere o aumentare la disponibilità dei retti. Intanto la locale ASL e l'amministrazione comunale di Pescara continuano a lavorare senza sosta per individuare dei locali per aprire un nuovo hub vaccinale in vista del 2022. Continuiamo a cercare, speriamo insomma dopo le vacanze di Natale di avere un ulteriore hub per poter continuare e migliorare e fare più vaccini nel Comune di Pescara ma non solo per il Comune di Pescara ma per tutta la provincia di Pescara. Uno screening di massa con adesione volontaria partirà il 7 e si concluderà il 9 gennaio per gli studenti dei quattro comprensori scolastici di Chieti coinvolte sia le primarie che le secondarie di primo grado. Il 7 e l'8 gennaio le scuole primarie e secondarie di primo grado di Chieti resteranno chiuse per uno screening di massa. In collaborazione con l'esercito verranno effettuati tamponi antigenici a tutti gli studenti delle scuole dei quattro comprensori teatini. Faremo nei giorni 7, 8 e 9 uno screening di massa ovviamente con adesione volontaria ai ragazzi frequentanti le elementari e le medie del nostro territorio cittadino con tamponi antigenici e per questo motivo saremo coadiuvati, l'amministrazione sarà coadiuvata dai carabinieri e dall'esercito al comando del tenente colonnello Falvo Salvatore e quindi per dare una maggiore sicurezza al rientro a scuola. Ho predisposto l'ordinanza per il prolungamento della chiusura delle scuole fino al 9 di gennaio con riapertura al 10. La decisione che è stata presa per iniziativa dell'esercito anche? Sì e anche del prefetto con il quale mi sono sentito ieri telefonicamente e organizzandomi con il colonnello medico Salvatore Falvo e parlando anche con le direttrici didattiche dei quattro comprensori di Chieti e stiamo sinergicamente approntando questa campagna di screening. Ringrazio il dottor Mario Del Vecchio, la dottoressa Lucia Romano e Angelino Di Francesco componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo che hanno espresso parere favorevole al bilancio di previsione 2022-2024 perfezionato con la struttura dell'ente non senza difficoltà dopo l'ormai nota sentenza della Corte Costituzionale approvato in giunta che oggi approda anche all'esame del Consiglio regionale. Lo afferma l'assessore al bilancio Guido Liris che commenta positivamente la redazione dei Revisori è arrivata nella prima mattinata di oggi. In relazione ai lavori della sessione di bilancio all'esito della riunione della conferenza dei capigruppo la chiusura dei lavori della Commissione per l'esame di merito dei documenti contabili e le necessarie audizioni è fissata per le ore 15. Alle 15.30 in programma la seduta del Consiglio regionale per l'esame dei documenti contabili con chiusura entro le ore 24. E voltiamo pagina la Guardia di Finanza di Pescara ha concluso un'operazione che ha permesso di scovare i furbetti del reddito di cittadinanza che stavano e operavano in un cash point 5 le persone denunciate a vario titolo. Paolo Renzetti Scoperto dalla Guardia di Finanza di Pescara un cash point abusivo per i cosiddetti furbetti del reddito di cittadinanza è finito nel mirino delle fiamme gialle del capoluogo adriatico un tabaccaio pescarese che in cambio di una provvigione calcolata sulla base di un tariffario esposto al pubblico monetizzava gli importi caricati sulle card rilasciate ai percettori di reddito di cittadinanza. Al termine delle indagini 5 persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria con l'accusa di truffa ai danni dello Stato per i percettori di reddito e per il tabaccaio e di suoi collaboratori per esercizio abusivo di attività finanziaria. Qui le regole sono state apertamente violate grazie alla compiacenza di un tabaccaio che svolgeva vere e proprie funzioni di bancomat illegale e alle sue prestazioni si sono rivolti diversi percettori del reddito di cittadinanza per eludere, per aggirare il divieto di prelievo del contante mensile che è di 100 Euro. Qui fingevano sostanzialmente di effettuare acquisti di beni di prima necessità ma in realtà intascavano i soldi grazie alla compiacenza del tabaccaio che per questo servizio illecito riceveva una provvigione. Addirittura abbiamo scoperto che aveva un vero e proprio tariffario nel proprio negozio per dimostrare ai clienti quanto avrebbe preso per questo servizio illecito. Le indagini si sono basate sulla nostra attività di intelligence. L'attività informativa è stata fondamentale anche in questo caso e ci ha permesso di intercettare questa situazione. Abbiamo poi acquisito le immagini che sono state adesso mascherate, rese pubbliche e che ci hanno permesso di capire che nel giro di poche ore il tabaccaio ha monetizzato migliaia e migliaia di euro. Un 2021 intenso per la Polizia di Stato di Pescara che oggi ha fornito numeri e dati delle attività portate avanti nell'anno che sta per concludersi e che ha registrato un leggero aumento dei reati commessi. Brillante operazione portata a termine nelle ultime ore con il sequestro di otto quintali di materiale pirotecnico. Leggero aumento di reati commessi a Pescara in provincia nel 2021 rispetto allo scorso anno. I delitti sono passati da 8.281 a 8.906. Due gli omicidi come lo scorso anno e tre anche i tentati omicidi. Questa mattina nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno il questore di Pescara Luigi Liguori ha fatto il punto sull'attività svolta dalla Polizia di Stato. È stato un anno molto intenso, peraltro è coinciso con il mio primo anno di questore in questa provincia. Il numero delle persone identificate nella provincia di Pescara sono aumentate circa del 40%. Anche il numero degli arrestati abbiamo un aumento in maniera esponenziale, siamo arrivati a 150 arresti in flagranza rispetto a circa 120 dell'anno precedente. Un dato analitico che ha elaborato la divisione anticrimine diretta dal Dottor Capasso evidenzia un leggerissimo aumento dei reati commessi nell'ambito della provincia. Siamo passati da 8.200 a circa 8.900 reati. Si tratta di reati di secondaria importanza, se di questo si può parlare, perché il reato non è mai secondario. Ma in ogni caso il paragone è fatto col 2020, che è un anno particolarissimo, in cui abbiamo avuto tre mesi di duro lockdown. Quindi i dati del 2020 sono decisamente falsati. Non è mancato un applauso agli agenti che hanno concluso nelle ultime ore il sequestro di otto quintali di fuochi pirotecnici pericolosi. È un'attività che è iniziata all'inizio del mese, è un'attività che è ancora in corso. Ringrazio anche la Procura della Repubblica che ci ha sostenuto in questa attività, che è ancora in corso, quindi non possiamo dire troppo di questa attività. È che sequestrare a Pescara oltre 8 quintali, non 80 kg sto parlando, di fuochi, è che abbiamo anche accertato che parte di questo materiale è stato già disperso, è stato già venduto e si tratta di materiale classificato, di materiale che per la cui detenzione occorre la maggiorità e l'autorizzazione del questore, occorrerebbe per la pericolosità. Questo ci preoccupa moltissimo e un invito ai cittadini che dovessero aver comprato inconsapevolmente materiale che è classificato poco più che materiale scenico o neanche botti di Natale, invece bisogna stare attenti perché si tratta di materiale molto pericoloso. Il processo rigopiano, la Cassazione discuterà il prossimo 23 febbraio l'appello dei PM contro l'annullamento operato dal Tribunale del Riesame di Pescara del sequestro dello stipendio dell'imputato Paolo Dincecco, oggi dirigente della Regione Abruzzo. Le parti civili ne avevano ottenuto dal GUP Paolo Sarandrea il sequestro preventivo lo scorso luglio. Decisione che è stata annullata a fine settembre dal Tribunale del Riesame. Il 30 settembre avevano reiterato al GUP la richiesta integrata nella motivazione e il giorno successivo i PM Papalia e Benigni hanno ritenuto di impugnare per Cassazione la decisione del Tribunale del Riesame. La quarta sezione della Suprema Corte ha comunicato di aver fissato per il giorno 23 febbraio 2022 la Camera di Consiglio per la decisione sul ricorso della Procura di Pescara. E ci spostiamo a Teramo dove l'amministrazione progetta una profonda rigenerazione urbana e il PNRR finanzia progetti per oltre 46 milioni di euro. Lungo l'elenco degli interventi tra i quali spicca il recupero del teatro romano, del mercato coperto, delle case popolari di Via Longo e poi la messa in sicurezza delle scuole, la costruzione di nuove strade, piazze e ponti. Teramo è pronta per la sua grande trasformazione. Tania Bonici Castelli. Teramo si rigenera urbanisticamente, una visione che si realizzerà attraverso progetti reali e finanziati secondo una programmazione elaborata dall'amministrazione comunale che è riuscita ad introitare 46 milioni e 225 mila euro di fondi per ridisegnare la città del futuro. Orgoglioso il sindaco Gian Guido D'Alberto, il cui mandato scade tra un anno e mezzo, il tempo necessario per dare inizio alla grande trasformazione. Una città cresce se cresce tutta insieme, se non c'è uno sbilanciamento fra il centro e le periferie. E' proprio così. Ecco perché l'intervento imponente, meglio la programmazione imponente di trasformazione e rigenerazione urbana che abbiamo presentato oggi in conferenza stampa e che è frutto di tre anni e mezzo straordinari di lavoro, segna proprio questo netto cambiamento, il cambio di volto della città e delle sue periferie. Ammodernamento di strade, piazze, recupero del mercato coperto, riqualificazione di antichi borghi, ristrutturazione e costruzione di nuovi ponti. Teramo è una città che punta all'espansione urbanistica e alla sicurezza. Un'amministrazione che ristruttura ponti e costruisce ponti, in effetti guarda veramente a un grande futuro di questa città? Sì, non guarda al di là del proprio naso, ma guarda veramente molto lontano. Questo era l'obiettivo che ci siamo prefissi sin dall'inizio con il sindaco, ed è stata la nostra visione dal primo giorno in cui ho assunto la responsabilità di vice sindaco e di assessore dei lavori pubblici. Qual è il progetto che la rende più orgoglioso? Sicuramente il teatro romano, l'abbiamo già visto, il cantiere è già aperto, 11 milioni di euro di finanziamento, 11.700 mila euro di finanziamento integrale anche lì, grazie alla collaborazione anche degli altri enti e il risultato che è già visibile. La rigenerazione urbana di Teramo parte da oggi e dovrà terminare necessariamente entro il 2026, anno di rendicontazione previsto dal PNRR. Si ricandiderà dunque il sindaco d'Alberto per un secondo mandato necessario a completare questa radicale opera di rigenerazione? Io questo non l'ho mai messo in dubbio, abbiamo lavorato in modo importante in questi tre anni, ovviamente partendo da zero, forse in alcuni casi anche da sotto zero, una situazione drammatica, e l'epoca è la fase della programmazione e del futuro della nostra città. Orgoglioso di averla scritta e orgoglioso e felice di poterla continuare a scrivere. E si guarda al futuro anche recuperando il proprio passato, tornerà a nuova vita uno dei simboli della città di Chieti, la colonnetta che è posta al centro dello spartitraffico nell'area antistante alla stazione di Chietiscalo, un'opera di mecenatismo da parte della ditta De Cesare che seguirà l'intervento sul manufatto. Un pezzo di storia di Chieti verrà restaurato e verrà donato alla città da parte della ditta De Cesare specializzata nel restauro monumentale. La colonnetta, una colonna di piccole dimensioni in pietra della maiella, risale al 1818, anno in cui fu posta alla fine della strada che prende il nome proprio colonnetta e che collega Chieti a Chietiscalo, un'unica città con oltre 2000 anni di storia. Sì, è un manufatto molto importante per la città di Chieti, identificativo di Chietiscalo e soprattutto della strada di collegamento tra la città alta e la parte bassa, lo scalo, e quindi ha anche un valore simbolico e anche per questo abbiamo scelto di restaurare con un atto di liberalità gratuitamente, progettazione e realizzazione proprio questo manufatto, visto che Chieti ne ha comunque tanti di portanti opere d'arte da rivalutare e da restaurare. Tempi previsti, 60 giorni dalla consegna che presumo avverrà subito dopo la firma del contratto, quindi dopo le festività natalizie e in un paio di mesi dovremo realizzare l'intervento. L'importo del restauro è di 20 mila euro, il progetto sarà curato per la parte edile dall'architetto Fausta Mattoscio e per il resto dall'architetto Maria Grazia De Cesare che è anche firmataria dell'intero progetto. Rimaniamo in materia urbanistica, solo un piccolo rallentamento a causa di alcune difficoltà della ditta nel riperire il materiale, ma a inizio anno partiranno i lavori per il consolidamento della passeggiata panoramica di Montepagano nella zona nord-est della frazione del comune di Roseto degli Abruzzi. Un intervento dal valore di 5 milioni di euro atteso da circa 30 anni dai residenti. Le opere pubbliche sono l'obiettivo anche fondamentale per quello che riguarda una macchina amministrativa, per quanto riguarda anche quello che si aspettano i cittadini e lo state facendo cercando di reperire più fondi possibili per portare delle opere importanti sul comune di Roseto degli Abruzzi. Assolutamente, il nostro obiettivo è quello di portare innanzitutto a compimento tutte le opere pubbliche programmate dalla precedente amministrazione che hanno trovato dei blocchi in questi anni e oggi noi le stiamo riprendendo una ad una per poterli sbloccare e poterli portare a compimento. Una tra queste sicuramente riguarda quelli del dissesto idrogeologico come ad esempio Montepagano, la ditta ha già allestito il cantiere, sta aspettando dei materiali che in questo periodo purtroppo ci sono delle difficoltà per i rifornimenti e a inizio anno partiranno i lavori. Inoltre abbiamo ottenuto dalla Regione Abruzzi, per questo ringrazio il sottosegretario Danuntis, fondi CIPES per la frazione di Casalta Olero, per la piazza di Casalta Olero, che andremo con la città e con gli abitanti della frazione a modellare per dare alle frazioni e a quelle più piccole soprattutto una nuova linfa. C'è stata anche una variazione di bilancio, era necessaria per questa? La variazione di bilancio di 180 mila euro era necessaria per non perdere un finanziamento importante in merito alle strade, alcune strade bianche del territorio che hanno subito nel 2017, con le nevicate del 2017, delle problematiche sono praticamente rovinate e quindi è un finanziamento che serve principalmente per risolvere quella problematica lì, quindi sono strade già individuate e sono finanziamenti della protezione civile della Regione Abruzzi. E siamo allo Sport, conferenza stampa questa mattina del Presidente onorario del Teramo Calcio, Franco Iachini, nonché gestore dello stadio Bonolis. Parole dure quelle di Iachini contro l'amministrazione che dice, lo ha prima sollecitato, all'intervento nel 2019 e poi non ha mantenuto le promesse. Il servizio. Un Franco Iachini arrabbiato, minaccia di adire le vie legali con il Comune, si ferma con il PEF e mette anche in vendita la concessione dello stadio, che succede? No, non sono arrabbiato, sono assolutamente stanco, stanco di questo immobilismo, di questa incapacità di governare da parte di questa amministrazione, non è in grado di fare, naturalmente non saprò già quali saranno le risposte da parte del Sindaco, dell'amministrazione, che i tempi dell'amministrazione non sono quelli di un imprenditore privato, vabbè, tutto quello che è, però un imprenditore privato non sono neanche questi tempi, io penso di aver sopportato ulteriormente quello che era nella naturale logica delle cose, perché aspettare due anni, due anni e mezzo per arrivare al compimento di un progetto a cui il Sindaco mi aveva chiamato dallo scorso maggio 2019, perché voglio ricordare che io qui sono stato chiamato in primis dal Sindaco, dal primo cittadino a dare una mano alla squadra di calcio e allo stadio, perché queste cose non bisogna ricordarsi, non è che Iachini si è alzato della mattina, mi voglio mettere a fare questo e questo, no, mi hanno chiamato per dare un contributo, l'ho dato volentieri, ho speso tanti dei soldi personali della mia famiglia, però ho visto che queste cose alla fine non sono servite a nulla, quindi a questo punto io purtroppo dalle propesse fatte mi guardo bene e naturalmente tiro in me in barca e vado a fare altre cose, quindi per me è sicuramente una chiara dimostrazione di incapacità di governare o almeno all'apparenza sembra così, poi dopo se ci sono a finire conditi non lo so, quindi per me basta, lascio lo stadio, lascio il PEF, faremo valere i nostri diritti, se ci sono dei diritti a far valere. C'è comunque in generale, lei ha denunciato una sorta di immobilismo di tutta la giunta comunale ma anche del Consiglio? Assolutamente sì, perché se non si guarda al bene della cosa comune e in questo caso lo stadio, torno a dire, è una cosa della città di Teramo, io sono un gestore che lo prende, investe e ne ricava un'attività, ma quella cosa comune è per la città di Teramo un bene importante dove si crea lavoro, si crea sviluppo e si crea attrattività, se non siamo in grado di poter capire queste cose purtroppo vuol dire che c'è un'amministrazione cieca che non guarda al di là del proprio naso e non vorrei essere troppo pesante, però per me è incompetente. Dopo queste dichiarazioni a stretto giro è arrivata la risposta del sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto che pochi minuti dopo la conferenza stampa di Iachini ha provato a smorzare gli animi ma lo ha fatto con una stilettata. Sentiamo, Ania Cantagalli. In conferenza il sindaco per usare un termine calcistico ha detto che bisogna stare attenti a non finire in fuorigioco, pensa che Iachini con la conferenza di questa mattina sia finito in fuorigioco spaventando la possibilità di fermarsi con il PEF e anche di adire le vie legali contro il comune. Il proponente ha diritto di porre in essere tutte le azioni, non ho ascoltato ovviamente le dichiarazioni, di ufficiale non è arrivato nulla in termini come amministrazione, ho sentito il Presidente fino a due giorni fa al quale abbiamo trasmesso anche il parere dell'Avvocatura che è stato redatto sulla base della richiesta della Commissione, quindi tutti gli atti istruttori verano trasmessi al Consiglio, c'è l'interlocuzione con Deloitte, quindi il Presidente Iachini è al corrente assolutamente del lavoro che sta facendo l'amministrazione e dell'interlocuzione che c'è stata, l'interesse pubblico prevalente deve essere tutelato nel rispetto sempre delle richieste dell'interesse privato, dobbiamo rispettare la legge, le norme e soprattutto la tenuta economico, finanziaria e contabile di ogni intervento e sulla base di questi presupposti continueremo ad interloquire con il Presidente Iachini e con il gestore dell'impianto Bonolis, perché qui parliamo del PEF, del PEF di un impianto sportivo dello stadio che è slegato ovviamente da altri aspetti, cercando di arrivare ad una soluzione su una competenza che non è del Sindaco, è una competenza del Consiglio Comunale, al Consiglio verranno trasmesse tutti tutti gli atti, su quel parere poi si discuterà, su quel parere immagino che possano esserci delle controdeduzioni, è un intervento importante, voglio anche rassenerare un attimino gli animi, capisco le reazioni, cercheremo laddove ci sarà l'intenzione di dialogare sulla base del parere che è stato redatto, quando si sceglie la tattica del contropiede bisogna essere attenti che non si finisca in fuori gioco. Ecco questa è la contromossa di chi non vuole subire il contropiede. Ancora calcio, il girone d'andata non è stato gratificante per il Pescara, ma con l'aiuto del mercato e confermando i miglioramenti di dicembre, la squadra di Auteri potrà far lievitare alcune voci statistiche e di conseguenza la classifica. Andrea Costantini. Un punto dal quarto posto, sette dal terzo, con Reggiana e Modano oramai alle prese e con un campionato a parte il Pescara ha ora la necessità di proseguire il suo programma di crescita per il quale il mercato reciterà un ruolo di rilievo, finalizzato ad una classifica che sia la migliore possibile e per presentarsi nelle condizioni migliori ai play-off. Alle spalle il primo match del ritorno che è stato lo sconto diretto, un pareggio che consente al Delfino di mantenere la classifica avulsa in vantaggio con l'Ancona Materica. Le squadre che sono immediatamente davanti, Entella e Cesena, nelle gironi di ritorno dovranno far visita allo stadio Adriatico-Cornacchia. Un vantaggio? In teoria sì, in pratica no, poiché l'Adriatico è tutt'altro che un fortino e già nelle ultime stagioni in B è stato terreno di conquista per tanti e in questa stagione in Serie C le due battistrade hanno vinto e anche squadre di caratura inferiore sono uscite indenni. Lì bisognerà fare meglio. Finora il Pescara ha un bilancio in perfetto equilibrio, 32 punti, la metà 16 in casa con quattro vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. Stesso bilancio in trasferta, 16 punti, quattro vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. Praticamente in equilibrio anche il bilancio dei gol fatti, 14 tra le muramiche e altre tanti in trasferta, 11 subiti in casa, 12 in trasferta. Delle squadre in posizione play-off, tenendo dentro la Lucchese che ha una gara in meno e fuori l'Olbia, peggio del Pescara come gol subiti ci sono solo Carrarese e ancora Matelica. Ma la fase difensiva ha fatto registrare passi in avanti nelle ultime settimane, non solo perché si è giocato con squadre di rango inferiore. Ora si attende una crescita anche nella fase offensiva, pensata per un calcio molto votato all'attacco, per ora il Pescara ha siglato solo 28 gol, sotto la media di 1,5 reti a partita. Il Delfino ha quasi sempre segnato ma lo ha fatto poco, soprattutto se si nota che mai, neanche prendendo le tre gare di Coppa, ha realizzato più di due gol in una singola partita. C'è un bomber, Franco Ferrari, e in caso di permanenza di De Marchi c'è anche l'alternativa. Sono invece mancate le reti degli esterni, sul banco degli imputati Eugenio Dursi, un solo gol all'attivo in campionato più uno in Coppa. Dall'attaccante napoletano, ma anche da Clemenza, talento indolente, ci si aspetta di più nel 2022. Un Rauti in ascesa e un Chiarella che ha superato l'infortunio alla spalla daranno un contributo importante. Bocic, Galano e Marilungo invece sono al passo ad addio. Anche il centrocampo in fatto di realizzazioni dovrà fare di più. Numeri che miglioreranno in base all'identità e all'autostima che il gruppo saprà acquisire e questo porterà il Pescara a superare il bottino tutt'altro che gratificante dei 31 punti del girone d'andata. Grazie a tutti.